Con l'avvio della fase 2 e la riapertura di varie attività scatterà anche l'obbligo delle mascherine su tutti i mezzi pubblici, i taxi, nelle aziende ove non sia possibile il distanziamento e negli ambienti chiusi. Per questo il tema è stato affrontato in maniera approfondita nella conferenza stampa del sabato del commissario Domenico Arcuri. Dopo le carenze registrate nelle scorse settimane, acquistare le mascherine insomma dovrebbe risultare più semplice per i cittadini, anche grazie ad un accordo già trovato con farmacie, parafarmacie, Econfcommercio, Federdistribuzione e Coop relativamente ai propri punti vendita sul territorio nazionale. In tutti questi luoghi una mascherina chirurgica costerà 50 centesimi più l'IVA finché l'IVA ci sarà, speriamo ancora per qualche giorno. Tutti gli italiani che lo vorranno avranno 50.000 luoghi nei quali sarà possibile acquistare questo dispositivo a 50 centesimi. Tutto questo è stato fatto, pensato e implementato nell'esclusivo interesse dei cittadini. Mi sia consentita soltanto una nota ironica anche dei cittadini che non sono d'accordo.